Ciao a tutti per un nuovo video oggi vi dico che dopo faccio la lunga che non vedo ora faccio la florella e la festeggio di ammo stanno a non veloci se non vi faccio i giochi a scuola finisce tra 12 giochi e comunque ci ho accoltato bene il 15 quindi c'è il 10 giugno il giorno non può programmare nemmeno nemmeno siap vede cosa mi sono oggi in un altro video vi faccio vedere le mie regalite come mi è visto che mi interessa scrivetelo se non lo sapevo fare poi vi volevo dire anche che vi farò uno speciale gli ascii soffritti non dici io so che se non ti parlo non so che voglio non so che voglio sto parlando di far passare il cielo e poi e poi se non ti parlo e poi 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 in questi giorni si sta facendo questa roba geometria ho capito se si deve finire il programma si deve finire anche di musica che non si fa mai più di amore si è fatto tutto ok c'è io volevo vedere il palermo però non ce l'ho e la devo facciare che faccio vedere che faccio vedere il formato di che faccio che faccio non se no non mi faccio vedere se no vieno migliare comunque questo era il video spero che vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo ciao ciao ciao